Non trovi più la tua auto. Sei solo distratto o è accaduto qualcos'altro? Con il servizio Trova Veicolo sull'app My Generali, verifichi subito la posizione e quanto ci vuole per raggiungerla. Immagina strade nuove. Muoviti come, quanto e con chi vuoi. Vieni in agenzia per saperne di più. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile su generali.it Immagina con Generali. Il futuro inizia prima. Grazie a tutti.